Lo avevamo annunciato nei mesi scorsi, la notizia importante era la nascita del nuovo polo al centro storico presso l'ex principe di Napoli dove stiamo allocando i nuovi corsi di laurea che insieme ad Unipa con un grande lavoro certosino fatto dall'Università degli Studi insieme al Comune di Trapani e al Consorzio Universitario siamo riusciti a portare questi corsi e adesso si sta lavorando per portarne degli altri. Naturalmente per fare tutto ciò necessitano dei luoghi dove tenere le elezioni. Il Comune di Trapani ha messo a disposizione questo grande grandissimo immobile dove in passato vi fu anche l'Accademia Candischi prima ancora la foresteria del Trapani Calcio ed oggi finalmente vi è il nuovo polo universitario. Le elezioni sono già cominciate, adesso in questo mese faremo sicuramente un passaggio insieme al magnifico rettore dal quale sono stato qualche settimana fa insieme al sindaco che ci ha detto che appunto nel mese di gennaio sarebbe venuto a Trapani per vedere questo nuovo polo. Le prospettive sono importanti, abbiamo messo in campo tanta energia, tanta determinazione per continuare a far crescere i corsi di laurea in città. Vogliamo una città a misura di giovane e per garantire ai miei coetanei la possibilità di rimanere in città e non andare necessariamente fuori a lavorare e a studiare necessita dare delle opportunità. Dunque stiamo lavorando in tal senso affinché il Principe di Napoli non sia solo una meteora ma sia la base dello sviluppo universitario in città e chiaramente non solo per Trapani. Deve essere uno sviluppo a trazione provinciale affinché possano arrivare in città e non solo studenti anche da fuori.